E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Brain e come sempre insieme a me Challenge Joy Va bello a tutti ragazzi Oggi è un episodio importantissimo perché questo è l'inizio di un progetto importantissimo con delle pezzoncine che sono tutti youtuber che vedete qua con noi, tra poco ve le presentiamo Questo è soltanto un video introduttivo, oggi è domenica e voi sul nostro canale, ossia Brain and Joy, vedrete questi video da lunedì a non si sa quando, tutti i giorni Quindi regà cominciamo subito con spiegarvi cosa andiamo a fare, ossia una UHC Cos'è la UHC? La UHC è una serie in cui noi non possiamo recuperare i cuori, bensì possiamo recuperarli soltanto attraverso il mangiare delle mele d'oro E niente regà, noi spawneremo in punti casuali della mappa e ci faremo la roba per poi affrontarci dopo un tot di tempo Detto questo, vedete qua col tab i nostri bellissimi team, partiamo dal team azzurro con Celofy Ciao Chiaretta Blade Ciao Che compongono il team azzurro Poi team verde, Eliab53, il suo canale GameTime Salve The Mike, trattino basso Uè, il team più figo Ok Io ed Enjoy, siamo noi team più figli e attento, che siamo il team rosso E poi Frostinox e Mondi, che sono il team giallo Ciao ragazzi Ho saltato qualcuno Ecco Ho saltato qualcuno, sia Master99, anche lui un canale YouTube, non è qui con noi con la voce Ma comunque sia, l'importante è la sua presenza Il pensiero, è col pensiero Regà, che vinca il migliore, non potete capire quanto ci abbiamo messo ad organizzare sta roba Quindi regà, lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina di tutti questi bei canali E niente, dentro con questa serie Ciao a tutti i gripperi, io sono Celofy, quest'oggi siamo qui in questo nuovo video delle WACC Champions No, aspetta, com'è che si chiama più? WACC Enjoy the Good Brain Sì, siamo qui quest'oggi con tantissima altra gente Ma non posso spaccare Come avete visto all'inizio, lagga un po' Mi fa spaccare Tanto Tu spacca e aspetta qualche minuto Minuto Hanno detto che all'inizio la ghicchiera un pochino, ma poi si riprende, tranquilla Zit Dai Sì, un po' ardua, eh Di presa Ok, ce l'ho fatta Io ho un pezzo di legge Io ho un pezzo di legge Comincio a fare la crafting table e un piccolo Io ho E poi scavare la pietra Io, sì, ok Perché io, ok, ne ho due pure io adesso Va bene, va bene, non me l'ho fatto Ok Ok Io ho quasi Te, dove sei? Sono nell'albero accanto Te Ok, l'ho fatto anche io la crafting table Vabbè, ce ne abbiamo due Una ce la portiamo dietro Eh, non ho abbastanza legno Ma che alba epica Facendo Fai un piccone te? Eh, non ho abbastanza blocchi Ok, lo faccio io allora Eh Eh Sì, un po' Ok Ok Ok, ho un piccone Aggiungere la pietra qui Sarà un po' difficile Aspetta, ti aiuto Ti aiuto Sì Ok, comunque devo dire che Lagga meno di prima Ma che dici? Ok Non è momento Ok Comunque questa vocaccia qui Sarà divisa in vari episodi Come hanno già detto E Non so Io in editing farò tutte queste sistemazioni varie Ho quasi Preso un pezzo di pietra Ok, ho preso un pezzo di pietra Wow Che cool Ne ho due Ne ho due, aspetta E abbiamo il terzo Tieni, fai un piccone di pietra Dove? Ti sto buttando robe Ce l'ho, ce l'ho Sì, però non 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 mi sta arrivando la pietra Sì? Ok È arrivata, ok Voilà Voilà Levasi Ok Vai, scavate che sei più veloce Tanto più veloce No, non credo Tanto noi siamo stati fortunatissimi Qua c'è un villaggio, guarda Eh, allora andiamo a prendere le cose Sì, andiamo a depredare le cose Dobbiamo stare attenti Che se si cade da qualche altezza Poi stipendio e danno Il problema del cibo non ce l'abbiamo quindi Perché guarda qui il richiume Ripiantale però, eh No Come no? No, noi le perdiamo tutte I semini li ripiantano Ma le patate ce le mangiamo tutte Prendile Però dovremmo cuocere le patate Credo Sì, sì Cerbero molto più Queste che sono sempre patate Ok Non perdiamoci che qua Poi non ci ritroviamo C'è un buco tanto Sì Qua non c'è niente Vabbè, che noi abbiamo anche affrontato Minecraft Estremo Impossibile Ti ricordi dove piovevano i meteoriti C'erano i tornadini In 5 secondi Carbone Questo non è niente di confronto Carbone Ok, ti scava Devo dire che le carote Non hanno il problema del lag Brava le carote Prendi le mele Aveva detto di prendere le mele Sì, bisogna spaccare gli alberi Il problema è che hai visto Che ci si mette un po' Provaci Bisogna spaccare tantissimi alberi Solo di quercia E lentamente cade Buonanotte Cadono le mele Ok, gli dici bocce no Io sto prendendo il carbone Ok, adesso provo a rompere gli alberi Con la parota Sì Ok, comunque funziona Ora ci siamo Dai L'avevano detto Che slaggava un pochino all'inizio E poi si sistemava Nel frattempo starete sentendo le campane in sottofondo Come è sempre avvenuto nei miei video Perché Sì, è così Ok Andiamo avanti Tu intanto Se trovi una caverna Non c'è andare che schiacchi No, no Ho preso tanto carbone Ok Ora faccio una cosa Sono troppo scura queste shaders Vabbè Meglio Ok Molto meglio Avevo riuscito Le patate Sì, sì Ti prendo un po' di carbone Per farmi un paio di torce Perché se vado a fondo Ok Per meno che a me Che vedo buio Sono sotto Cioè, aspetta Te Buttiamo qua il cibamento Te E un po' di questo lo utilizzo Te L'ho preso già Sì, l'ho già preso anch'io To E adesso ci dobbiamo buttare giù Ma prima Faccio un pochino Giù in miniera Però prima Perché? È per scavare Per il ferro Sì Però prima No, non devi spaccare te Devono cadere da sole Ok, perfetto Se voglio spaccare soltanto il legno E lasciare lì le foglie Ok Aspettare un bel po' di tempo E poi forse avviene il miracolo Che ci dà una mela Wow Il problema è che poi Bisogna anche trovare 8 di oro E potremo rigenerare un pochino di cuori Ecco, una cosa importantissima da fare È uno scudo Per evitare che ci ammazzano gli scheletri Col Col ferro Si Devo scendere ancora Quindi Si, però Io direi che è meglio andare a cercare una miniera Proprio Quindi tu stai qui Io ti do anche l'ascia Ma mettiamoci dentro una casa allora No No Ok Non c'è tempo Qui bisogna agire Eh lo so Ma dentro una casa dei villager ci mettiamo Mica No, poverino Ora ti attacca Vedrai Ma figurati Tu Spacca lì E guarda se c'è una caverna nelle vicinanze Credo che ce ne sia una qui Cadere da questa altezza potrebbe essere letale Quindi vado giù con calma E non c'è niente Oh No Non c'è niente Che sfiga Abbiamo il villager Vabbè abbiamo tantissimo cibo Meno male Ok forse qua c'è qualcosa Però non mi avventuro finché non abbiamo Una spadina almeno Faccio un giro largo e arrivo lì Vediamo un po' se trovo qualcos'altro Che fatto? Verso cuore Sono caduta nel buco Vabbè sembra che non ci sia nient'altro Un paio di coltivazioni di stuggere in più 50 Oh mio A che livello sono? C'hai il carburicoso Il ferro Tipo 50 Boh E si trova subito Confinatiamo Che io non ho il volume Quindi se mi arriva qualcosa da dietro Muoio Come? Eh no guarda Ah Perché? Eh boh Il tipico funzionava Vabbè Ok finché queste foglie non sono andate via Continuiamo così Io spacco un po' gli alberi qui Tu scavicchi di là Poi vado un po' tonnelloso O continuo in giù? Eh Continua in giù Fino a 50 Eh dai spaccati Ci sarà un pezzo di ferro prima o poi Eh lo so Vabbè ste cose qui sono lentissime a cascare Quindi io direi Che Un'altra mela Sì ne abbiamo due Sì Ora serve 16 di ore Ed è un casino trovare l'oro È rarissimo sai È più raro del diamante ma si trova più in alto Da quello che mi ricordo E ok Qua sembra che non ce ne siano altre Ma se entrassi in una caverna sarebbe troppo rischioso Vabbè Ok E io non vengo Io non mi fido Eh sì Devi venire Tu guarda quell'altro lato Sì così I mostri sono tutti di qua E muoio io Ma vai con più cautela È finita È piccolissima Vabbè Ferro Abbiamo ferro Sì ne abbiamo ben 8 Già È poco E quindi Boh Andiamo in quella che avevo trovato io prima Oppure non lo so Torniamo indietro Prima di tutto Di qua? Sì Vabbè Andiamo in quella che c'era prima Dove restavo io Che era Un po' più là da villaggio Ci sono delle mele? No mi pare No Alvarelli Io le pianto Che sfido Oh io dicevo che vado in quella caverna là Sì ma non farti ammazzare Sì Ripalta la bocca Vediamo un po' C'è qualcuno che è già mezzo morto Guarda Noi siamo i migliori Siamo quelli che siamo ancora invincibili Davvero? Sì Io in un team intoccato Come diceva Eren Siamo gli Iron Man Wow Eh siamo gli Iron Man Qualcosa del genere diceva Teoricamente Vieni qua Mucchina Quelli che non prendono danno Li chiamavano così Nelle loro VHC Adesso vado qui È perché dobbiamo spiegarci Ok altro ferro Che fortuna Tu continui a scavare verso il basso Ah ok Tornerò È vero sì Le mucche Che fortuna che le abbiamo trovate Perché? Cosa servono? Perché servono per fare un centi in table Perché? Hai la pelle Sì Ok Basta Devo farne ancora No ne basta una Ok Servono anche le canne da zucchero Per fare la carta Eh ci sono Ci sono Credo Sì le avevamo viste Dove sono? Boh Vengo io a vedere Mangiare è un po' Problematico Uh ci sono le librerie qua Ah e allora prendiamo quelle fine Che fortuna Eh no Però diventano libri Lo sai Eh sì ma ci servono soltanto libri Perché figurati se abbiamo tempo Per fare le librerie E fare i libri Quelli potenti Ok quindi Io direi di andare a scavare Un po' Beh in 40 minuti Però si trova Sì Io direi di andare a scavare Un po' giù E vediamo cosa troviamo Se no In direzioni diverse pure Aspetta che entro Anche nelle altre case Magari c'è qualcosa Se no andiamo altrove Poi dobbiamo tapparci lì eh Perché la notte Non dobbiamo stare fuori No non c'è la notte Davvero Ha detto che È sempre giorno È bellissimo allora Ho trovato Ho trovato Ho trovato Ho trovato No forse c'è Perché sta scendendo Sì Allora vieni qua Eh Allora mi porta tutto Sì Oddio Cosa c'è? Creepers Chiudi Chiudis Chiudis Aspetta 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 Fermi Facciamo Un cavolo di scudo Qui sul momento Anzi torna un pochino su Anzi anzi Facciamo tutto qua sotto Tu prendi tutto Immergiti E vai in fondo Aspetta che guardo se Ci hanno dato Un po' di me Ne abbiamo due Vabbè però sta arrivando la notte Poi di giorno ci ritorniamo Prendo ancora un po' di legno Sì è vero È molto meno laggoso Sì Però la bilice Non spaccarla Sì tanto lo ho anche Dalle mele E lo so però Almeno abbiamo legno Ok I legno sono pienissimo Metto a cuocere Tutto E di più E di tutto E di più Ok Dove sei? Nelle profondità Tenta a non cascare Nel buchetto Cioè a non farti sparare Ok Facciamo uno scudo Vediamo se mi ricordo Come si fa Tipo così Voilà Tony Faccio uno anche a te Ok Dov'è il buchetto? Ali Tieni Ma c'è del ferro lì giù Sì è del ferro Sì sì Tieni questo però Se no E facciamo Anche una spada Spostati Sì E una cesta Ce l'ho una cesta Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho nell'inventario Un attimo Vai Espagni E un piccone di ferro Ma se ci nascondiamo Per l'eternità No perché poi Arriva la barriera Non so come Non so quando Dobbiamo accorgersene Quando arriva Ok piano piano Scendiamo Gli scheletri Sono il peggior nemico Ok il ferro Bene Questo va preso tutto Oddio no Qua c'è un'altra caverna È troppo pericolosa Andiamocene No no E bisogna farlo Basta tappare Faccio una spada Di ferro Oddio Vi sono scheletro Fermati È qui È qui Oh mio dio Beh Oddio Ho paura È scemo Paura anche di qua Sembra che non ci sia nulla Creepers Via Il terrore Il terrore Il terrore Il terrore Il terrore Ok Però L'ha eliminato Ho paura Ce n'è un altro Di là aiuto Sono cerchiato Corri Attento Arriva Arriva No non arriva È scemo Se ora è un po' Mena che ce n'è uno Di qua E me lo dirà Devo chiudere quello Ok Vieni qui Dai Che scemo Oh Vado A controllare Se la barriera Sta arrivando No è notte Ma comunque Dovrebbe arrivare Un avviso Quando succede qualcosa Vediamo È lì Sì E vieni qua No Non ti E che devo fare C'è il ferro Oh no C'è anche uno scheletro No 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 Ok Là non ci andiamo Ho paura Ho buttato via Tutta la pietra Che avevo Ma serviva Ce l'ho Tre È qua Tutto il ferro Dov'è? Il ferro ce l'ho Nell'inventario Faccio una spada Di ferro Faccio una spada Di ferro E levati Ok Ok Il mio inventario Che fa schifo Inventario Tutto un casino Ok Mi faccio anche Il terrore Il terrore Il terrore Oh mio dio Il terrore Quanto sono pro Hai perso due cuori Però Eh però Hai visto come sono stato pro Sono quella più Qualcuno è morto Ah no era solo un fulmine a caso Ah sono quella con più cuori Che paura Sì sembra che ha chiamato Il terrore Il terrore ha recuperato il cuore Quindi vuol dire che hanno trovato Aiutami No ok Ok Ormai che i creeper laggano Cosa facciamo col ferro? Mamma mia C'era anche uno scheletro Che è caduto qui E credo di vederlo Ma lui non vede me Cioè Girati Non toccare il micro Girati un attimo Sto toccando il micro Girati Sto salendo verso il te No c'era un C'era tipo Sì ma c'è uno scheletro lì Ma è uno scherro ora? Ok vado ad affrontarlo Era ferro O era O era Coso Non vado ad affrontarlo Giorati Vattene via Ma perché C'è uno scudo? Il ferro cosa ci facciamo? Cosa ci facciamo le armature? È ovvio Perché non mi ha protetto lo scudo? Perché la vita Ce l'hai la spada di ferro? Oddio Qua c'ho paura Ce l'hai la spada di ferro o no? Sì Ok Sono riuscito a tornare su Mamma mia Devo fare l'armatura Perché io vado là E schiatta Dov'è? Dov'è? Dammelo tutto Ti ho fatto riscargli Non lo prendo Vai più distante Ok grazie E basta È tutto qui Sei? Aspetta con sei cosa ci posso fare? Il coso? No Così Così Ok Te? Non si può controllare il giorno da qui tipo? Looking Light No Ti ho dato un capellino Day zero Ok quando arriva day due Day uno forse possiamo andare Su Grazie Ti ho dato il capellino Alla prossima Alla prossima Alla prossima